Ciao ragazze, sono tornata con un altro video questo sarà un video in collaborazione con MakeupGin18 ovvero Ginevra che gli mando un forte bacio è una ragazza davvero dolcissima in gamba, mi piace tanto e molto competente per quanto riguarda il make up mi piace davvero tanto andate a dare un'occhiata al suo canale vi lascio il link nell'info box a breve mi strozzavo comunque è il video tag del trucco completo a 20 euro che abbiamo visto da Nicole ma in realtà è un tag delle ragazze americane e l'abbiamo italianizzato a 20 euro anziché 20 dollari l'ho interpretato a modo mio ovvero Nicole ad esempio ha fatto il tutorial con i trucchi che ho utilizzato io insomma ho utilizzato i trucchi insomma l'ho interpretato tipo trucchino del giorno mi faccio vedere quello che ho utilizzato rientrando sempre nel budget di 20 euro che è stato davvero difficile come impresa non perché io abbia trucchi di chissà quale brand ma proprio perché non potevo utilizzare tanti prodotti che quotidianamente io utilizzo tipo un po' di illuminante un blush anziché un altro non è che questi non li uso però utilizzo insomma più prodotti in verità ad esempio i pennelli non li ho presi in considerazione Nicole sì io non li ho presi in considerazione perché si parla di trucco di make up non di pennelli io non li ho presi in considerazione mi sono concentrata più sui prodotti allora iniziamo subito alla fine vi farò vedere il trucchino del giorno vi parlo prima dei prodotti come fondo ho utilizzato questo qui della NYC che vi ho fatto vedere già nei promossi e bocciati se non sbaglio di maggio ed è lo skin matching lo 687 light to medium ed è questo qui che ultimamente allora mi sta dando un po' di problemi non chissà cosa però ad esempio io prima lo applicavo sul dorso della mano e poi lo picchiettavo col pennello e me lo stendevo per tutto il viso ultimamente mi sta creando tipo questo problema che il mio dorso cioè la pelle me lo si risucchia e praticamente il fondotinta scompare quindi devo stare là ogni volta a mettere a mettere prodotto e questa cosa non mi piaceva perché sembrava che avessi più strati di fondotinta non era una cosa uniforme quindi non mi piaceva ho utilizzato insomma il metodo che ne prendo una poca quantità lo metto un po' qua 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 e qua e lo spalmo con il pennello quindi questo qui non è un fondotinta da utilizzare sul dorso della mano almeno io parlo per me per la mia esperienza ho constatato questa cosa che la pelle se lo assorbe molto quindi per evitare di mettersi quintali di fondotinta addosso e insomma fare tipo un effetto mascherone che a me non piace ho sperimentato questo metodo mi trovo abbastanza bene la stesura è uniforme e mi ci trovo bene è adatto a tutti i tipi di pelle e dà le vitamine vitamine A C e D non mi soffermo più di tanto a parlare di questo prodotto vi ho detto solo insomma questo tipo di metodo che utilizzo che mi trovo bene proprio perché ho constatato questo problema e magari per chi ce l'ha il mio stesso problema posso dargli un consiglio ed è ve l'ho già detto questo qui costa mi sono scritta tutti i prezzi sono andata da Ecco e Sapone a scrivermi i prezzi rendetevi conto che fu una di merda comunque questo qui costa 3 euro e 99 si fondandomi si 3 euro e 99 e ho utato e ho utato questo qua poi come correttore per sbarazzarmi il più presto possibile di questa rotellina qua ovvero quella dei correttori forget it 3 in 1 concealer di essence non tanto per il marroncino vi ripeto ma per il rosino e il celestino è la stessa rotellina che utilizza Nicole però Nicole ad esempio la sua pelle che ha una bellissima pelle non si nota la lune rosa e la lune azzurrino che rilasciano questi due correttori qua perché le le ha usati tranquillamente non si notava niente io se li utilizzo mi si vede proprio la lune ed è una cosa schifosa sia dell'azzurrino che del rosino non so il motivo infatti sono nuovi il più scavato vi faccio vedere è questo marrone che non è male ha una coprenza medio-bassa non è chissà che caspita di coprenza vi offre però è passabile insomma ed ho utilizzato questo qui l'ho utilizzato anche per illuminare l'arcata sopraccigliare e insomma per coprire le po' di occhiali sparse qualche imperfezione sul viso così ma niente di particolare e questo correttore qua costa 2,99 euro la Essence invece c'è il catalogo che vi ho fatto vedere precedentemente in qualche video non mi ricordo e quindi i prezzi Essence sono quelli 2,99 euro allo stesso prezzo c'è anche quello lì che utilizzo giornalmente lo Stay All Day Concealer 16 ore però quello lì io lo utilizzo da sopra insomma i correttori miei classici dato che non rientrava nel budget non l'ho potuto utilizzare quindi mi sono ho utilizzato soltanto il marroncino e 2,99 euro poi la Cipre Essence la Mettifing Compact Power scusate il mio inglese è pessimo questa qui che la sto usando tutti i giorni così insomma finirà anche se è uno tra i prodotti infiniti ho visto il video di Eleonora che gli mando un forte bacio e secondo me si rimargina la notte questa è la è la Perfect Beige che si può vedere la 04 e non mi finisce mai la utilizzo davvero tutti i giorni per terminarla però c'è abbastanza c'è ancora abbastanza prodotto e questa cipre qua mattificante costa 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 3,49 euro questa qua purtroppo non si legge bene la scritta comunque la Compact Power è questa qui insomma 2,49 3,49 perdono poi come primer occhi ho utilizzato ho riscavato nelle profondità abissali del mio cassettone il primer ELF della linea base le light primer da 1,70 euro il color champagne che ho acquistato ma ho utilizzato davvero pochissimo è questo colore qua non vi aspettate il colore che vedete dal sito perché io mi aspettavo quel colore qua invece mi è arrivato codesto non è male però a me dà un po' fastidio perché rilascia questi glitterini odiosi e non mi piace per questo motivo qua la tenuta degli ombretti ottima come il classico solo che quando ho acquistato da ELF il classico non c'era e quindi mi sono arrangiata con questo qua ed è questo colore che vedete sul dorso della mia mano è questo marroncino con qualche glitterino che si può notare ed è per questo motivo qua che non l'utilizzo preferisco più un primer uniformante per quanto riguarda la palpebra come può essere l'altro colore che purtroppo si è cancellato non so dirvi il colore questo è champagne sicuramente quell'altro che ho da un anno e mezzo si è cancellato quindi non vi saperei dire il colore comunque quello lì classico rosino e quello lì della essence che è uniformante per quanto riguarda le discromie della palpebra questo qui no da quasi colore tipo la palpebra è un colore marroncino con questi glitterini un po' non mi piace per questo motivo qua però è peccato insomma l'ho acquistato devo pur utilizzarlo in qualche modo e ho utilizzato questo anche perché così rientravo nel budget 1,70 euro poi come ombretto ho utilizzato questo qui della Mua ed è lo shade 12 della della la collezione pearl ovvero quelli là perlati ed è lo shade 12 però non mi non me lo metto a fuoco non capisco il motivo comunque fidatevi è lo shade 12 quello che ho messo in falio per il gift away ed è il club ed è il dupe del club di MAC ha un colore davvero stra bellissimo stra figo come potete vedere io l'ho sfumato fino l'ho sfumato fino all'arcata sopraccigliare poi vabbè ho steso il correttore e ha creato questo questa cosina marrone questa sfumatura marrone bella questa sfumatura marrone che è troppo carino mi piace molto e poi vabbè sulla palpebra mobile dà questo effetto marrone verdastro mille riflessi ve lo faccio vedere perché è stupendo cioè bellissimo sul polpastrello rende medio e questo qui potete apprezzare insomma la pigmentazione di questi ombretti perché scrivono da dio sono troppo troppo belli sono veramente stupendi infatti non vedo l'ora di fare qualcosa di soldi per fare un altro ordine alla makeup academy per quanto riguarda questi ombrettini qua e anche altri prodotti che insomma mi piacciono tantissimo questo è lo sboccino sul 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 dorso della mano ho fatto anche la haul della makeup academy magari perché si è scritta da poco vi lascio il link nel box informazioni così potete vedere tutti i prodotti di questa azienda che è favolosa e l'ho pagato soltanto una sterlina più o meno 1 euro e 70 ed è questo questo qua come potete vedere rilascia proprio questo effetto marroncino stra bello e l'ho pagato 1 euro e 70 poi come blush ho utilizzato sempre della makeup academy questo qui che è lo shade 4 se a qualcuno interessa eccolo qui ed è questo colore rosato aranciato davvero molto bello cioè per l'estate a me piace molto tanto non è che io mi abbronzo particolarmente la mia abbronzatura è più dorata marroncino quindi essendo un colore abbastanza acceso va sfumato abbastanza bene perché è molto scrivente altrimenti rischiate l'effetto Heidi è un colore stupendo è il blush che mi resiste di più in assoluto cioè mi dura tutta la sera è il blush la prima cosa che va via sia perché insomma vi strofinate o perché salutate le persone quindi spregando va via questo qui resiste a lungo e questo arancione qua beh molto molto bello con delle perlescenze all'interno micro micro pagliuzze dorate è stra bello mi piace tanto è anche questo qui a 1,70 euro una sterlina ed è questo poi come lip gloss ho utilizzato non sapevo come fare per rientrare nel budget ho utilizzato insomma questo qui della H&M che non è male poi ve ne parlerò meglio nei prossimi video magari i preferiti o i promossi ebocciati più che altro i promossi ebocciati ed è il Summer Gold questo qui eccolo qua vi ho fatto già vedere ed è questo albicocca con tante perlescenze all'interno di tutti i colori sulle labbra ha un effetto un colore albicocca molto molto lieve con delle perlescenze sbrilluccicose e la predominanza di queste perlescenze è dorata e qualche pagliuzzetta di qualche colore sparso e questo costa 99 centesimi non so se ve l'ho detto l'ho trovato alla cassa non so se stava in offerta o meno non vi saprei dire comunque 99 centesimi poi come mascara ed è l'ultimo prodotto che ho utilizzato per questo trucco qua ho utilizzato il Multi Action Mascara di Essence che penso tutti voi conoscerete volevo mettere le Love Extreme però non rientrava nel budget perché costa 3,49 euro questo costa 2,99 euro e mi ci trovo bene con questo mascara qua ha un effetto molto naturale sulle cia come potete come potete vedere non quell'effetto bello strong che offre le Love Extreme comunque ci accontentiamo anche perché stasera non è dove devo andare quindi un look più naturale naturale relativamente perché comunque sono truccata per un ombretto particolare mi sto perdendo in chiacchiere comunque da un look naturale è molto carino non fa grumi ha un bel nero mi piace tanto e mi piace anche il prezzo perché anche se devo dire che i mascara di Essence mi piacciono tantissimo perché non mi deludono mai qualunque tipo abbia provato l'unico che mi è seccato un poco anche perché a me mascara di Essence non si secca non mi si è seccato solo lo Smuky Lashes di questo qui quello verde giallo infatti se lo metto mi fa le ciglia un poco effetto ragno insomma un poco stoppose e niente ragazze il video tag finisce qui in totale ho speso come posso dire 19 euro e 55 mi è avanzato qualche centesimino però non avevo nessun prodotto che rientrava insomma in questi centesimi qua e quindi non l'ho messo vi lascio nell'info box vi ripeto il link del canale di Ginevra e del video di Ginevra che se non l'ha girato o insomma lo girerà prossimamente insomma vi aggiornerò e vi metterò sempre il link del 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 suo video essendo una collaborazione vi mando un forte bacio a tutti voi mando un bacione a Ginevra e un bacione ad Eleonora Eleonora Manni che io stra adoro è una ragazza dolcissima bellissima mi piace tanto mi fido dei suoi consigli è davvero molto brava se non la conoscete andateci a dare un'occhiata vi lascio sempre il link di di Eleonora vi mando un bacio a tutti voi e al prossimo video ciao ragazze grazie a tutti Grazie.